Dottoressa, non ci sono segni di un primo contatto. Sono il colonnello G.T. Webber. Lei è un'autorità in tutto il mondo nel campo delle traduzioni. Ho una cosa che deve tradurre per me. Questi sono... Non tutti sanno metabolizzare esperienze del genere. Ultima situazione stressante? Questa conta? Servono risposte quanto prima. Che cosa vogliono? Da dove vengono? Sei pronta? Io non... Sì, è tutto vero. Che succede ora? Ora arrivano. Oh mio Dio. Quante sono? Con questa dodici. Non siamo un mondo con un unico leader. È impossibile trattare solo con uno di noi. Come chiariamo le loro intenzioni? Io torno dentro. Non devo certo avvisarla che sta correndo un rischio. Ora sì che si sono presentati. Voglio tutti al lavoro qui. Mi sembra che gli esiti di questa storia alla fine dipendano da noi due. So cosa significa. Che cosa dice? Portare arma. Non mi serve un interprete per capire che vuol dire. Non sappiamo se capiscano la differenza che c'è fra arma e strumento. La Cina ha minacciato di distruggere il suo guscio. In ogni caso, la Francia e la Corea la seguiranno. Potrebbe diventare una guerra globale. Dobbiamo parlare con gli altri siti. E collaborare stavolta. Abbiamo 15 ore. Prima che vada tutto al diavolo. Stai sognando nella loro lingua. So perché sono venuti. Che accidenti sta facendo? Fidati di me!